Ci rendiamo conto dello schifo che facciamo, della vergogna totale che è questa squadra o non ce ne rendiamo conto? È una settimana che mi dite monta, ma sei pessimista. Monta, ma perché dici così? Vedrai che vinciamo. La Spagna non è tutta questa cosa qui. Il portiere della Spagna è meno sudato di me. Guardate quanto sono sudato. Sono sudato marcio. Sarà la birra, sarà il caldo, sarà il non condizionatore in casa perché sono povero. Ma ci rendiamo conto di quanto facciamo cagare e siamo imbarassanti? Perché io imbarassanti non lo posso più usare nelle copertine, perché l'ho già usato tre volte per questa squadra di merda. O due. Imbarassanti, inguardabili, non scesi in campo. Cosa devo dire? San Donnarumma, devo dire. Perché se non era per Donnarumma, oggi ne prendevamo quattro. Quattro ne prendevamo. Inguardabili. Poi sì, vincono per 1-0 su un autogol, ma se quel santo là di dietro, che alcuni di voi hanno anche il coraggio di criticare, non faceva quei miracoli. Noi oggi ne prendevamo quattro. E poi mi sto anche tenendo basso. Inguardabili. Impresentabili. Ne salvo due. Due a propria fatica. Allora, Donnarumma ha tutta la vita. Donnarumma ha otto. E l'altro è Calafiori, nonostante l'autogol, che non mi è dispiaciuto. Il resto non se ne salva uno. Compreso Scamacca, che è imbarazzante anche lui, come tutti gli altri. Tutti imbarazzanti. Non ce ne salva uno. E non conta se ti fa per l'Atalanta, lo devo parlare bene dell'Atalantino. No. Gli hanno fatto cagare tutti. Anche quello in panchina, che non si rende conto che Inaki fa quel cazzo che vuole. Va dove cazzo. Scusatemi. Nico Williams fa quel cazzo che vuole là di dietro. Va dove vuole. Ci ha fatto immattire MVP senza ombra di dubbio. Il migliore di tutti. Ha fatto una partita straordinaria. Ha detto bene Caressa. Quanto cazzo vale questo qua? Non lo so quanto può valere un giocatore così. Ci ha preso per il culo a tutti. Di Lorenzo non sapeva più dove andare. Io veramente. Boh. Ciao ragazzi. Come state? Spero bene. Se avete fatto la maturità vi auguro ogni bene. Questo è un canale più che altro di vecchi. Quindi la maturità l'avrete fatta in tre. Ma detto questo. Iscrivetevi al canale. Fate come prima di mettere un piacere. Quindi commentate. Come avete capito è una reaction sfogo. Non poteva essere diverso. C'ho un caldo alla Madonna. Mi sto decomponendo. C'ho anche le lenti a contatto. Le lenti a contatto. Le lenti degli occhiali appannate. Faccio schifo. Non vedo dove andarmi a fare la doccia. Subito decisiva Donna Roma. Su Pedri al minuto uno. E già lì abbiamo capito come andava la partita. Niko Williams. Fa quel cazzo che vuole. Sulla destra. Sprecca una cosinissima al ventesimo. Jamal fa il diavolo a quattro da tutte le parti. Di qua e di là. Bravo anche Morata. Oggi mi è piaciuto anche lui. Cucureia. Da tanti perculato. Perché il difensore fa la parte belli capelli. Io l'ho chiamato tutta la partita. Perché è strapagato. Va benissimo. Quello che volete. Ma oggi era l'uomo ovunque. Anche lui. Della Spagna non c'è un migliore. Sono tutti migliori. Forse Nico Williams. Perché è proprio stato stratosferico. Donnarumma bravissimo. Sventa tre pericoli. Fa tre parate decisive in 24 minuti. E ancora Donnarumma su Fabian Ruiz. Decisivo a deviare in angolo. L'Italia in campo oggi è Donnarumma. Basta. Basta. Non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro. È l'autogol. Basta. Questa è l'Italia oggi in campo. Cioè. Intimoriti. Molli in avanti. Loro picchiano come Fabri. Niente da dire. Ma a prescindere da quello. Hanno stradominato. Se vincevano tre a quattro a zero. Non c'era niente da dire. Io voglio vedervi qua. Nei commenti. Che dicevate. Monta. Vinciamo. Tre a uno. Monta. Non capisci un cazzo. Io non capirò un cazzo. Ma io invece lo vedo. Che questi qui non vedono andare in ferie. Andare a Miami. Andare a fare le belle vite. La bella vacanza. Eh. Voi non ve ne rendete conti. Invece che non gliene frega un cazzo di questa maglia qui. Di questa maglia qui. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Forse solo a Donna Roma. Detto questo. Di Lorenzo. Sempre in ritardo. Con Nico Williams. Non sa dove cazzo andare. Giorginio. Inguardabile. Come sempre. Io mi domando. Perché questo qui continua a giocare. Farò giocare titolare sempre. Meno male che nella ripresa lo leva. Perché è imbarazzante. Entra uno cristante cambiaso. E inizio secondo tempo. Per frattesi e Giorginio. Mala che frattesi. Giorginio. Come ripeto. Imbarazzante. Meno male che l'ha tolto. 40 secondi. Cristante viene ammonito. Si fa notare per quello. Punto. Scamacca. Non bene. Neanche lui. Niente. Non se ne salva uno. Cocureglia. Come vi ho detto. Uno dei migliori dei suoi. Qui parlo solo della Spagna io. Nei miei appunti. Qui parlo solo della Spagna. Spagna. Meritatamente vantaggio. Su Goff. 8 gol di Calafiori. Fino a quel momento. Uno dei migliori dei nostri. Ha scritto. Punto di domanda. Punto di domanda. Perché. Non sono così sicuro. Forse Calafiori gli do 6. E a Donnarumma gli do 8. Fine. Fine. Gli altri stanno dal 4 in sotto. 5 forse. 4-5 qualcuno. Imbarazzati. Ci sono solo loro in campo. Solo loro in campo. Ogni volta che vengono avanti. Preghiamo tutti i santi. E le madonne. Vi dico quelle che ho tirato io. Donnarumma. Ancora decisivo. Yamal. A 3 centimetri dal palo. Fuori di così. Anche questo. 17 anni. Fa quel cazzo che vuole. Eh. Boh. Io non lo so. Veramente. Noi. Abbiamo solo da imparare. Da sta gente qui. Ragazzi. Perché noi. Gli under 17. Da noi vincono l'europeo. Però da noi. Gli under 17. Li teniamo là. Noi teniamo. Giorginio. Giorginio. Vai Giorginio. Che sei forte. Giorginio. Vai. Vai che sei forte. Di Lorenzo. Imbarazzante. Tutta la stagione. Napoli. Non mettiamo a titolare. Vai così. Tutti gli imbarazzanti mettiamo. Il blocco inter. Ma vaffanculo. Anche te il blocco inter. Non ce n'è stato uno decente stasera. A parte. Ripeto. Donnarumma. Ormai sono ripetitivo. Ma. Molti di voi criticano anche Donnarumma. E questo mi fa ridere. Cioè io sto. Mi sto sciogliendo. Entrano Zaccagni per Chieser e Teghi per Scamacca. Nico Williams. Traversa piena. Ha fatto. Ha fatto un'azione allucinata. Da quella parte lì ragazzi. Veramente non lo tenavamo in nessun modo. Bisognava sparargli in una gamba per fermarlo. Non sapevamo più dove andare. Meno male. Esce. Perché comunque colpisce una traversa piena partita. Meritava. Strameritava il gol. Veramente ragazzi. Non so veramente quanto possa valere. Mi piacerebbe l'Atalanta. Ma non penso che se ne vediamo quattro. Forse ce lo possiamo comprare. Meno male. Escono Williams e Jamal. Perché ci hanno veramente rincoglionito tutta la partita. E con i cambi. Con i loro migliori che escono. E un po' i nostri nuovi dentro. Perché entra Anzaccagni e entra un'altra gente. L'Italia fa qualcosa. Ma cosa fa? Un tiro in porta? In 20 minuti? In quarto d'ora? Non so. Sul finale. Ci proviamo. Andiamo avanti. Per me non ci ha capito un cazzo. Né Spalletti. Né la squadra. Non lo so ragazzi. Non lo so. È vero. Ci basta un pareggio con la Croazia per passare. Puoi fare un'altra figura di merda dopo? Prossimo turno facciamo una figura di merda. Poi non è detto che vinci con la Croazia. Perché se giochi così non è detto che vinci con la Croazia. Io non lo so ragazzi. Veramente. Veramente. Io il vostro ottimismo vi ammiro. Vi ammiro. Perché voi che eravate convintissimi di vincerla questa qui. Io vi ammiro. Perché o non siete obiettivi. O comunque siete dei grandi. Perché avere un ottimismo così nella vita è... Gianni. L'ottimismo è il profumo della vita. Cioè siete dei fantastici. Perché io purtroppo sarò... Sì. Sono pessimista. Molto spesso dico le cose. Spero che succeda l'esatto contrario. Molto molto spesso. Soprattutto con l'Atalanta. Però sono anche realista. E mi rendo conto che se questi vinciano 4-0. Stasera zitti tutti. San Donnarumma. San Donnarumma. E' gente che critica ancora. Quello lì. Pensate un po' a voi come siamo impiantati. In una nazione di allenatori. Siete tutti allenatori. Io compreso. Tutti allenatori. Però... Mi spiace ma non è così che funzionano le cose. Ragazzi. Io vi invito a iscrivervi. A te la campanella. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Scusate. Lo sfogo. Ma stavolta era inevitabile. Inevitabile. Come quel famoso Italia-Macedonia. Che vi piace tanto. Andatevelo a vedere. Tanto in questa playlist qui la trovate. E' uscita la prediction della Coppa America. Inizia anche la Coppa America stanotte. Sta andando di merda anche quel video lì. Andate a giocare. Fatevi due risate. Fate la prediction della Coppa America. Dite che vince la Giamaica. Così magari ci facciano due risate tutti insieme. Dai. Vi aspetto lì. Vi aspetto nel prossimo video dell'Italia. Che io lavorerò. Quindi lo farò a non so a che ora. Ma va bene così. Vado perché devo farmi assolutamente una doccia. Vi abbraccio di cuore. Il vostro mondo. Ciao. Alla prossima. E... Sveglia! Sveglia! Sveglia!